bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo e brevissimo video sul canale io sono apiandragon oggi ragazzi vi volevo consigliare e aiutare su una faccenda che in molti hanno avuto problemi riguarda le impostazioni del di gioco con la sensibilità con l'aggiornamento della patch 2.37 che è stata fatta una settimana fa di mercoledì c'è stato l'aggiornamento in cui hanno cambiato le impostazioni della sensibilità di ogni persona hanno cambiato le impostazioni con la una in teoria più precisa o più facile quindi da una parte hanno tra virgolette dato più scelta alle persone di avere più sensibilità penso che però da una piccola parte sia anche a me stesso che ad altre persone non è molto piaciuta questa cosa in questo brevissimo video ragazzi dove volevo dire che comunque volevo consigliare un metodo in cui potete disattivare questa sensibilità di controller e riprendersi quelle vecchie che uno usava prima della patch 2.37 l'unica cosa che dobbiamo fare ragazzi è attivare la usa delle opzioni avanzate quindi attivarle e confermare e andare tutto giù fino ad arrivare su usi comandi legacy per la visuale questo significa che leggendo infatti la descrizione attiva per tornare al comportamento legacy della sensibilità quindi tornare tra virgolette alle vecchie impostazioni che si usavano ovviamente uno fa sì applica quindi attiva queste impostazioni vengono disattivate tutte quante e vengono attivate quelle che si usavano prima dell'aggiornamento questo è un consiglio che vi do comunque sto solo dicendo come per chi volesse come riprendere le vecchie impostazioni che uno utilizzava prima della nuova patch che avevano messo queste impostazioni ovviamente uno abbia scelta vuole ognuno scelga chi vuole qualsiasi impostazione o sensibilità io comunque vi volevo avvisare su questa sensibilità ragazzi detto ciò spero che vi sia dato d'aiuto questo video e ignato ragazzi qui è davvero andare con il tutto ci mettiamo in un prossimo video bella ragazzi